Al venticinquesimo di Electronics Time siamo con Alessandro Mallarino, direttore commerciale Silentron. Grande e storica partnership la vostra con Electronics Time? Assolutamente sì, è una partnership che dura da circa 20 anni e che ogni anno viene completamente rinnovata e rinforzata, anche grazie ai rapporti personali. E oggi siamo qui in questo splendido evento fondamentalmente a presentare la nostra nuova linea di sistemi di antintrusione prevalentemente senza fili ma anche misti, aperti ovviamente a tutta una serie di soluzioni tecnologiche all'avanguardia e di assoluto rilievo. Per quanto riguarda la nostra collaborazione con Electronics Time rappresentiamo insieme a loro la parte di sicurezza wireless per quanto riguarda una parte interessante del mercato nazionale, soprattutto quella del meridione d'Italia. Con Electronics Time tra l'altro si ha un partner molto preparato? Assolutamente sì, è un partner che ha un'esperienza molto importante con persone all'interno a tutti i livelli assolutamente competenti a partire dalla direzione generale, a partire da uno dei principali fondatori, Martino, che è uno dei più grandi esperti di sicurezza in Italia. Benissimo, la risposta del mercato e dei clienti qui a questo evento? La risposta è buona, siamo contenti perché abbiamo visto molto interesse, abbiamo visto della partecipazione importante, molti dei partecipanti a questa fiera ci conosceva già, qualcun altro ci conosceva di meno, il sistema è stato accolto con un certo entusiasmo e quindi siamo contenti.